Era l'agosto del 1990 quando Roberto Ferrucci prende un autobus blu da Pisa e arriva di fronte un cancello. Quello sarà il primo incontro con Antonio Tabucchi. Quel giorno non ci sarà Piero, non ci saranno i telefonini e bisognerà essere molto attenti. L'attenzione lo porterà anche a vedere un bellissimo murales sulla strada che lo porterà a quel cancello. Da quel giorno Roberto ha preso tantissimi tram di tutti i colori, dal rosso Coca-Cola al verde al giallo all'azzurro. Azzurro come il cielo di Lisbona. Tornerà a Lisbona e ci racconterà l'amicizia, l'amicizia straordinaria, l'amicizia accaduta tra lui e Antonio Tabucchi e lo farà a stazioni. Ci racconterà delle pacche, degli abbracci, delle serate insieme, dei libri degli amici, delle biblioteche e ci racconterà soprattutto perché è tornato a Lisbona. È lì perché ha un grande senso di colpa, cioè quello di non esserci stato il giorno che Antonio Tabucchi è stato portato via. Allora torna al cimiterro monumentale dei poeti e nella sua cappella lascia un biglietto e mezza matita, un po' come a tranquillizzare la sua anima. Come vi dicevo a stazioni ripercorre questa grandissima amicizia e lo fa descrivendoci i momenti più belli trascorsi con lui e mostrandoci un Antonio Tabucchi veramente diverso, un uomo generoso, generoso nell'umanità, generoso letteralmente e poi sincero, empatico, affamato di storie e sempre sempre sorridente. Le due uniche fotografie che Roberto ritrova, una al Caffè Florian e una con Daniele del Giudice, sembrano bastarci perché questo racconto è veramente straordinario e ci permette di tratteggiare bene la sua figura. Antonio Tabucchi è soprattutto un uomo libero, oltre a essere generoso e lo dirà una sentenza definitiva che arriva dopo la sua morte e lo dirà soprattutto sua nipote il giorno del passaggio del feretro. Scrivi, gli diceva puntualmente a Roberto Ferrucci e lui lo ha fatto e allora noi lo ringraziamo per Storie che accadono, questo libro che ripubblica in Italia e soprattutto perché ci restituisce la figura di un uomo che abbiamo forse studiato pochissimo e le storie come sapete accadono ma poi finiscono e con questa immagine straordinaria di un tram che si ferma e si svuota, in realtà in penombra riusciamo a vedere un uomo che sorride con il suo Panama e il profilo di una donna, la donna con il quale Roberto condivide questo straordinario viaggio. Roberto Ferrucci, Storie che accadono. Buona lettura.